L'anno scorso è venuto da te un bambino, Antonino. Ce la faccio. L'anno scorso è venuto da te un bambino, Antonino, non stava bene. Ti ha chiesto il cappuccino dell'Inter. Ieri Antonino è diventato un bellissimo angelo. Antonino è venuto, me lo ricordo benissimo, abbiamo fatto un bel video insieme. Che poi tra l'altro si chiamava pure come me. È per giunta anche interista. Io ho voluto dedicargli questo super cappuccino. Volevo dirgli anche ai genitori che Antonino adesso che è un bellissimo angelo sicuramente veglierà su di voi, vi proteggerà e vi starà sempre accanto. Io volevo fare l'ultimo saluto ad Antonino dedicandogli questo super cappuccino. Ciao Antonino! Forza Inter! A veri hai visto che gli fa lui i cappuccini?